Musica Bentrovati, ospite di questa puntata di Politiche d'Intorni, Luca Cipriano, consigliere comunale di opposizione, il capo dell'opposizione al comune di Avellino, però io Cipriano vorrei così con lei parlare soprattutto dell'esperienza al Cimarosa, lei è stato per sei anni, due mandati triennali consecutivi presidente del Cimarosa, Cimarosa è un fiore all'occhiello di questa città, in verità da sempre, da quando è nato, è stata una grande attrazione per questa città, partire proprio dal Cimarosa per cercare di capire il dintorno serio, culturale della politica, capire un po' quali opportunità questa città ha, perché mentre poi il Cimarosa è continuato così a crescere con le cose di cui parleremo tra poco, si assiste purtroppo a questa, se posso dirlo, agonia del teatro Gesualdo, un po' per la pandemia, o meglio, specialmente per la pandemia, soprattutto per la pandemia, ma anche perché proprio non si ha più nessuna notizia, salvo questa fondazione che il comune di Avellino ha varato recentemente, questa fondazione che dovrebbe fare, se è capito ancora bene che cosa, poi lo vedremo. Partiamo dal Cimarosa, Cimarosa, sei anni, ecco io intanto vi chiederei così un giudizio non soltanto personale, ma se vuole un giudizio un po' autobiografico rispetto al Cimarosa di questi sei anni, sei anni sono tanti, non sono pochi, sei anni sono una biografia, una bella parte di biografia. Sono volati se devo dire la verità, nel senso che lei ha citato il teatro e il conservatorio che sono due esperienze che mi rimarranno per sempre nel cuore. Io ho avuto l'occasione, l'opportunità tramite il Gesualdo e il Cimarosa di dare un senso più compiuto al mio impegno pubblico nella città di Avellino, perché sia col teatro che col conservatorio ho messo in campo tanta passione, tante energie, coinvolto tante persone, realizzato tante attività. I sei anni del conservatorio che sono finiti proprio pochi giorni fa, quindi è una chiusura recente della mia esperienza, sono stati anni assolutamente interessanti, intensi. Io sono stato nominato due volte da due ministri della pubblica istruzione, la prima volta da Stefania Giannini e la seconda volta da Valeria Fedeli. Il ruolo del presidente del CDA del conservatorio ha un po' una missione ibrida, cioè è un ruolo di congiunzione tra la parte artistica, didattica, quindi la grande macchina organizzativa che il conservatorio ha in tutta Italia e anche però il territorio. Quindi se posso dire in questi sei anni ho aperto moltissimo le porte del Cimarosa alla città, alla provincia, alla regione. Andiamo per gradi però, andiamo per gradi perché... C'è tanto da raccontare. Ripeto, essenzialmente del Cimarosa vorrei parlare con Cipriano, anche perché del teatro no, del teatro deliberatamente no Cipriano, e glielo dico c'è una inchiesta giudiziaria ancora in corso per cui non disturbiamo e non... Assolutamente. Assolutamente, appunto, non è il caso, la magistratura fa il suo corso, poi magari quando le cose saranno finite anche sul piano giudiziario magari poi ne parleremo. sul Cimarosa, ecco, sei anni. Io partirei, perché i bilanci sono importanti, io partirei dopo sull'apertura al territorio che è una cosa molto molto importante, però partirei dall'attività. Ecco, qual è stato dal suo punto di vista, non dico il valore aggiunto perché si farebbe offesa anche a chi prima di lei è stato appreseduto il Cimarosa, ecco, ma qual è stato il valore, non in più, il valore collaterale, ecco, chiamiamolo così, che c'è stato con i suoi sei anni? Ma io penso che il bilancio più chiaro della mia esperienza sta nei fatti che sono accaduti in questi sei anni, quindi basta riavvolgere un po' il nastro di quello che è accaduto al Conservatorio in questo periodo per capire come c'è stato un forte incremento dell'attività artistica, sono stati fatti molte più concerti, molte più attività proprio didattiche, artistiche aperte anche alla regione, alla città di Avellino e alla provincia. Ma per avere un'idea anche della quantità dei concerti, se ricordo bene... Sono più di 300. Più di 300 concerti, ecco... Ci siamo divertiti un po' a contarli. Cosa specifica in materia, o meglio non ho la statistica a portata di mano, 300 concerti per un conservatorio che non è un conservatorio di provincia, attenzione il Cimarosa è un gioiello italiano, riconosciuto tale, non dagli Avellinesi ma dall'Italia, cioè da chi può esprimere giudizi di carattere proprio professionale. 300 concerti in un anno, che cifre rappresentano in rapporto ai concerti, al numero di concerti che hanno fatto gli altri conservatori italiani, ce ne stanno tanti? Noi abbiamo, i conservatori in Italia sono una sessantina, sono equiparati alle università, sono tutti pubblici statali, quindi noi siamo come un'università, tant'è che il ministro di riferimento è il ministro dell'università. I conservatori italiani hanno una produzione artistica molto diversificata, molto ampia, il Cimarosa si inserisce nei primi 10 conservatori per numero di alunni iscritti, basta pensare che ci sono un migliaio di alunni in media iscritti al Cimarosa, 150 docenti e un'attività artistica di produzione ogni anno, frequentanti ogni anno, sono tanti, è molto grande, è mille la media perché abbiamo avuto anche punte di 1400, 1500, quindi adesso con la pandemia sono evidentemente, erano insomma, sono un po' scesi, però numeri importanti, quindi la produzione artistica è importante, gli eventi sono tanti, il Cimarosa ha un valore aggiunto che è l'auditorium, il piccolo teatro al suo interno, una sala da 400 posti che consente a queste attività di poter essere molto fruita dalla popolazione, quindi noi, ecco una delle cose di cui vado più orgoglioso è che sono arrivato al Cimarosa trovando quell'auditorium chiuso, non utilizzato perché dopo più di 40 anni un po' di attività di restauro era necessaria, siamo riusciti a intercettare piccoli finanziamenti per riportarlo all'antico splendore, lo abbiamo inaugurato nel 2017 e da allora è diventata appunto una fucina continua di iniziative, di eventi e mi piace ricordare non solo del Cimarosa ma di tutte quelle associazioni anche culturali e onlus che sono state ospitate al Cimarosa in questi anni. Finanziamenti, ecco un capitolo, una parentesi più che un capitolo, finanziamenti di che cosa campa il Cimarosa, di che cosa il Cimarosa campa da quando è nato praticamente? E come tutte le università ha delle tasse di iscrizione degli alunni e dei contributi che dà il Ministero dell'Istruzione, quindi è assolutamente un ente pubblico che vive soltanto di finanziamenti pubblici. Cioè possiamo dire che il bilancio, cioè il bilancio proprio economico finanziario del Cimarosa? Supera il milione di euro. Un milione di euro? Sì, un bilancio che supera il milione di euro e tutti quei concerti a cui facciamo riferimento sono stati sempre gratuiti, offerti gratuitamente alla città come è giusto nella missione di un ente pubblico. Le rassegne, le rassegne in questi sei anni ci sono stati anche, sono state anche 62, 63 rassegne? Sì, 63 rassegne, sì. Queste rassegne, ecco anche qui, la valenza artistico-culturale di queste rassegne, quanto hanno influito secondo lei? Perché poi alla fine nel bilancio, Cipriano, bisogna vedere anche che tipo di ricaduta c'è nella crescita culturale, in questo caso anche e soprattutto di cultura musicale, nella città. La risposta l'hanno data veramente gli spettatori, cioè il fatto che quella sala da 400 posti spessissimo è stata sold out e comunque ha avuto sempre numeri importanti, ha significato che le rassegne che abbiamo organizzato con i direttori con cui ho lavorato e che ringrazio Carmine Santaniello prima e Carmelo Columbro poi, che ovviamente hanno avuto magna pars nell'organizzazione dell'attività puramente didattica. Ecco, con loro abbiamo messo in campo rassegne che sono molto piaciute, hanno interessato pubblici molto diversificati. Il segreto è stato anche appunto diversificare, cioè al Cimarosa si è suonato dalla musica classica alla musica elettronica, dalle sperimentazioni a tutto ciò che può essere innovazione e nuovi linguaggi musicali. Questa trasversalità ha portato gli avellinesi a re-innamorarsi del conservatorio. Io lo dico con molta franchezza. La soddisfazione maggiore per un ruolo come il mio, tra l'altro svolto a titolo gratuito, quindi chiaramente non era il mio lavoro, non ho avuto nessun vantaggio economico da questa esperienza. Qual era la soddisfazione? Organizzare un concerto, accogliere il pubblico in sala la sera quando queste cose si potevano fare, con grande nostalgia ci penso, e vedere gli avellinesi che ti dicono grazie, che bello, questo auditorium è vivo, questo teatro è bello, c'è la possibilità di sentire. Devo dire, anche molti sottolineavano gratuitamente delle belle iniziative musicali, quindi questo è importante. Ha messo un dito, involontariamente, ha messo un dito nella piaga, anche perché di questi giorni la polemica, se possiamo dire anche no, la polemica esplosa in seguito alla decisione del governo, all'annuncio del governo, poi si vedrà se sarà possibile o meno, ma portare 20.000 persone, 20 o 25.000, 20.000 persone allo stadio a giugno per i campionati europei, giustamente il ministro Franceschini ha detto attenzione, insomma se portiamo 20.000 persone allo stadio non si capisce perché non possiamo nel frattempo di aprire i teatri, ma la domanda era questa, magari non ce ne siamo accorti perché siamo stati presi e siamo presi, concentrati sulla pandemia, la paura dell'infezione, del contagio, ci siamo dentro fino al collo ancora, però quello che diceva lei, il dito nella piaga, si sente la mancanza, cioè ci rendiamo conto probabilmente, questo è un esempio un po' plastico di quando questa pandemia ha inciso sulle buone abitudini, anche sulle buone abitudini come può essere appunto la partecipazione guardi basta, un venerdì sera fino al 2018-2019 noi lo trascorrevamo di solito al Cimarosa con dei concerti musicali con centinaia di persone, adesso da un anno e mezzo il nostro venerdì, il nostro sabato, la nostra domenica, tutta la nostra settimana è sul divano davanti alla televisione, è cambiato completamente tutto, io avverto una crasi, una separazione profonda tra la vita di prima e la vita di poi e non sarà semplice nemmeno tornare con fiducia a riaffollare questi ambienti, però devo dire che tutte le istituzioni culturali hanno messo in campo protocolli sanitari importanti, anche noi al Cimarosa abbiamo percorsi diciamo assolutamente stringenti dal punto di vista del contenimento sanitario del virus, quando si potrà tornare liberamente a fare queste attività sono certo che ci sarà un periodo di iniziale diffidenza ma poi dopo qualche mese gli italiani torneranno volentieri a riempire i teatri, i cinema, le sale da concerto e poi quest'estate magari facciamo una prova generale un po' all'aperto, quindi Franceschini penso che intenda anche questo, cioè siccome all'aperto il virus si diffonde di meno, incominciamo a favorire lo spettacolo, la musica, anche informazioni più ridotte all'aperto e poi ci prepariamo per un settembre-ottobre dove si spera si potrà tornare, anche perché mi faccia dire una cosa in un secondo, la cultura è un'economia e quando i teatri sono chiusi, quando i conservatori non funzionano, ci sono centinaia di persone a casa senza lavoro, io penso ai fonici, ai tecnici, agli allestitori, i costumisti, i registi, gli scenografi, gli attori, quindi si è fermato un pezzo dell'economia italiana ed è giusto che a loro vada un pensiero non solo di solidarietà ma di incisiva... Certo, ma si blocca anche il circuito economico che sta intorno a tutta questa attività culturale, in questo caso attività scolastiche e musicale, nel teatro, attività teatrali, eccetera. Sendo un'amputazione culturale decisamente molto molto importante, molto molto grave. Una curiosità, la didattica a distanza per un conservatorio, no? Sì. Come funziona? Funziona male purtroppo, funziona male perché lei può immaginare come un direttore d'orchestra abituata ad insegnare alla sua orchestra in una sala grande, a guardare in faccia i suoi musicisti e non riesce a fare quasi nulla guardando un computer, quindi il Cimarosa ha attivato come obbligatoriamente necessario tutta una serie di corsi di didattica a distanza in questo anno di pandemia, abbiamo anche dotato il conservatorio nei mesi scorsi di maggiori strutture, abbiamo acquistato delle aule multimediali, abbiamo potenziato la connessione di rete, insomma abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare, però è chiaro che ci sono alcune discipline che hanno sofferto e soffrono e quindi purtroppo anche i nostri allievi del Cimarosa su alcuni percorsi formativi avranno delle carenze che dovranno recuperare quando la pandemia sarà finita. Lì parlava, Cimera, accennava prima all'apertura al territorio, no? Sì. Intanto in che cosa è consistita questa apertura, come si è concretizzata? e soprattutto qual è stata la risposta del territorio? C'è stata una risposta concreta? Sì, noi abbiamo detto agli avellinesi e agli irpini che questo è il vostro conservatorio, quindi qualsiasi idea, iniziativa, progetto, abbiate in testa, comunicatecela e cerchiamo di realizzarlo assieme. Questo ha significato i 300 e passa concerti che abbiamo citato, le tante rassegne. Al conservatorio abbiamo ospitato dalla festa della Polizia di Stato, quindi un momento istituzionale, alle iniziative di associazioni dedicate alla raccolta fondi, l'AIL, Total Life, la Croce Rossa, la Misericordia, l'azzezza di Bellizzi per le tradizioni popolari del territorio, l'associazione Fizz, che è un'associazione di appassionati di musica di Avellino che hanno portato grandi musicisti internazionali. Quindi ogni qualvolta qualcuno ha avuto una buona idea, ha trovato le mie porte, la mia porta sempre aperta e questo ha funzionato bene. La domanda gliela faccio volentieri, anche perché io ho scoperto, magari con un poco di ritardo, in Montignor Aiello, nel Vescovo di Avellino, una capacità creativa davvero molto importante. Come ha trovato questa iniziativa del Vescovo di Avellino, delle note per l'anima, che pure hanno riempito spesso la sala di Cimarosa? Abbiamo realizzato con il Vescovo quattro edizioni di questa rassegna. Io ricordo ancora la telefonata, ero a Roma, era di prima mattina, il Vescovo telefona verso le sette e mezza del mattino e mi disse che aveva la volontà di realizzare questo connubio tra la musica e le sue riflessioni spirituali, teologiche, sociali e mi chiese se noi eravamo della partita. Ho accettato subito, immediatamente, ho coinvolto i docenti e gli alunni. Sono nate quattro edizioni in cui il Vescovo raccontava e leggeva dei brani di natura spirituale, di natura emozionale e i nostri musicisti eseguivano concerti dal vivo accompagnando queste riflessioni del Vescovo. Le dico che ciascuno di quegli appuntamenti ha avuto almeno 50-100 persone in più dei posti a sedere consentiti. Quindi solo perché c'era il Vescovo ci siamo permessi di aprire le porte a più persone di quante ne potessero entrare. Per dire che quella rassegna ha funzionato molto bene e mi piacerebbe che potesse tornare prima o poi. Questo è un riscontro molto importante. Senta Cipriano, gli spazi del Cimarosa, lo ricordo attraverso le cronache, ci sono stati degli interventi molto importanti che hanno qui dato certamente un valore aggiunto strutturale al Cimarosa. Ce li può ricordare? Sì, abbiamo cercato di lasciare un segno, quindi come le dicevo l'auditorium Vincenzo Vitale che era chiuso e che abbiamo restaurato e rinaugurato nel 2017. Alcuni interventi anche alla struttura esterna grazie al contributo dell'amministrazione provinciale. Vede, già l'edificio del conservatorio è una storia meravigliosa perché quello immobile è stato donato dal governo degli Stati Uniti nel 1985 alla città di Avellino come il risarcimento simbolico morale delle ferite del posto terremoto. È un campus di 20.000 metri quadri. Forse anche un po' come il risarcimento per i bombardamenti. Beh sì, insomma, gli americani hanno spesso cose di cui farsi perdonare perché sono abbastanza imperialisti da tutti i punti di vista. Sbagliarono qualcosa. Insomma, ci sono pagine buie purtroppo, lo diciamo con un sorriso amaro. Un auditorium di 400 posti è una cosa impressionante. Io appena mi sono insediato a inizio del 2015 ho trovato quella sala meravigliosa chiusa e ho detto qua bisogna lavorare per riaprirla. L'abbiamo fatto a testa bassa con l'aiuto di tutti, con il direttore Santaniello che era molto operativo in quel periodo e quella sala bellissima, 400 posti, un palcoscenico di 200 metri quadrati, la buca motorizzata per l'orchestra come nei teatri, un piccolo ambiente camerini, un piccolo foyer. È stato veramente un gioiello. L'ultimo regalo l'abbiamo realizzato poche settimane fa, ad inizio febbraio, quando la ex palestra del conservatorio, perché i conservatori in passato hanno ospitato anche le scuole medie, quindi la scuola media aveva una palestra a servizio. Questa palestra negli ultimi 15 anni non è mai più stata utilizzata, perché le scuole medie sono state poi separate dai conservatori. Ebbene, questo ambiente lo abbiamo trasformato, ad inizio febbraio abbiamo inaugurato, in un'aula magna da 100 posti, che significa un secondo teatro piccolo, che spero si possa aprire alla città, ma significa anche una bella sala concerti dove gli alunni del conservatorio possono esibirsi davanti ai propri colleghi e ai propri professori. Quindi, diciamo, delle dotazioni strutturali ci sono e sono importanti e mi fa piacere che il Presidente del Consiglio, Conte, nella sua visita di Avellino del 2019, scelse di visitare il conservatorio, venne nel nostro auditorium, visitò la struttura e poi si prestò a un gioco che volevamo fare insieme, gli demmo la bacchetta, giocò a fare il direttore d'orchestra e rimane quello un momento, diciamo, indelebile nella storia del conservatorio. Come direttore d'orchestra del conservatorio oppure come Presidente del Consiglio? Io ho qualche dubbio sul secondo impegno, per la verità. Ma con noi si prestò simpaticamente a un gioco che, devo dire, è stato molto anche empatico perché i ragazzi apprezzarono. Come Presidente del Consiglio forse ha attraversato il momento più buio della storia repubblicana, quindi dare un giudizio non è mai semplice. Senti, invece mi aiuta a ricordare, Cipriano, la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica al Conservatorio Cimarosa di Avellino. La motivazione? Un riconoscimento prestigiosissimo collegato all'attività scientifica che il Conservatorio ha portato avanti negli anni, in particolare a un lavoro sulla Grande Guerra che il Professore Antonio Caroccia, con il suo team e con i responsabili della biblioteca, ha messo in piedi. Quindi un lavoro di natura didattico e scientifica che ha consentito al Cimarosa di avere questo alto riconoscimento, la medaglia d'oro del Presidente Mattarella, che teniamo conservata. Io continuo a parlare al presente, ma insomma non ci sono più, quindi che chi... Vabbè, insomma, resta comunque... immagino che resterà comunque cittadino onorario del Cimarosa. Beh, insomma, spero di poterci tornare sempre con gioia. Comunque che l'istituzione conserva tra i momenti... non tutti i conservatori, ecco, ottengono questi riconoscimenti. Tra l'altro il Conservatorio Cimarosa quest'anno, nel 2021, spegne 50 candeline. Sono 50 anni di vita, fu istituito nel 50 anni appunto fa e avevamo immaginato di organizzare degli eventi, poi la pandemia sta rallentando tutto. Insomma, c'è un compleanno importante che è giusto che gli avellinesi sappiano. Dal di là dell'apertura al territorio che lei ha ricordato, non vorrei sbagliarmi, ma credo che ci sia stata anche un'apertura buona, bella, abbastanza ampia a rapporti addirittura internazionali o no? Molto interessante questo aspetto. Il Conservatorio Cimarosa ha sviluppato negli anni una buona rete di relazioni internazionali. Noi siamo inseriti nel circuito Erasmus, quindi vengono al Conservatorio gli studenti Erasmus dell'Unione Europea. Ci sono rapporti con alcune università statunitensi e soprattutto c'è questo storico rapporto con la Cina, per cui esiste un progetto che si chiama il progetto Turandò, che consente ogni anno ad una media di 60-70 studenti cinesi di lasciare la Cina e venire a studiare per un anno al Cimarosa e completare qui in Italia il loro percorso di studi. Questo ha significato tanto, non solo per il Conservatorio, direttore, ma anche per la città, perché questi 70 studenti cinesi ogni anno hanno abitato ad Avellino, hanno fittato delle case ad Avellino, hanno frequentato la nostra comunità, hanno interagito con i ragazzi ecoetanei avellinesi, favorendo uno scambio di idee, di opinioni, di visioni. Quindi il Conservatorio è stato anche una grande vetrina di internazionalità per la nostra Avellino ed è uno di quegli aspetti, se ne occupa il maestro Roberto Maggio, che saluto e ringrazio con grande affetto per il suo impegno, il progetto Erasmus, i progetti internazionali, sono progetti molto importanti che il Cimarosa dovrà sostenere anche per il futuro. Ora, tutto questo bilancio, Cipriano, non l'abbiamo tracciato, non era nella mia intenzione così farle raccontare o raccontare di nuovo le cose che sono state fatte. Serve, perché serve alla memoria, ma serve anche come punto di partenza. Lei in una recentissima intervista, credo 3-4 giorni fa addirittura, ha usato un'espressione che mi ha incuriosito e quindi vorrei chiederle qualche spiegazione in più. Lei ha detto che questa città, questa provincia ha fame di cultura e la musica e la cultura musicale fa parte certamente di quel bagaglio musicale addirittura produttivo, di cultura generale addirittura produttiva, come è la musica, che andrebbe sostenuta un pochettino di più. Da che cosa si è capito che questa provincia, questa città hanno fame di cultura e soprattutto, ma perché questa fame non viene appagata? Ecco, guardare dall'esterno un po' alle cose che accadono, no? Penso non soltanto al Teatro Gesualdo, per colpa della pandemia, per carità, poi vedremo che cosa sarà fatto, ma ad altre strutture culturali di questa provincia, mi pare che questa provincia, quanto a cultura, venga tenuta ancora a pane e acqua, o no? È assolutamente la cenerentola della politica, della programmazione, anche degli obiettivi di chi amministra. Vede, io sarei stato un sindaco anomalo, lo dico senza mezzi termini, perché non sono appassionato di cantieri, di grandi opere, di progetti dove, se vogliamo, girano anche milioni e milioni di euro e di interessi. Sono appassionato di cose che fanno vivere la comunità. Allora, lei mi diceva, come vi rendete conto che c'è fame di cultura? Ci rendiamo conto dal fatto che ogni volta che è stato proposto agli Avellinesi e agli Irpini un progetto di qualità, io ho sempre avuto la difficoltà a tenere le persone fuori, cioè c'è sempre stato un surplus di richieste, di presenze. Gli anni del Teatro Gesualdo, anni di grandissime presenze, il record di abbonamenti, il record di vendita di tanti biglietti, questi sono numeri e non sono opinioni, quindi sono facilmente riscontrabili. Gli anni del conservatorio, tante presenze quando proponevi progetti di qualità, la rassegna estiva che facevamo nel parco del Teatro Gesualdo, proprio in questi giorni abbiamo visto sui social l'immagine di quel luogo distrutto e abbandonato, insomma, dimenticato anche dall'amministrazione festa, lì c'era una rassegna estiva che ha fatto sei edizioni, sempre tutto esaurito. Allora, gli Avellinesi e gli Irpini hanno la bocca buona, vogliono progetti di qualità, non vogliono essere presi in giro, vogliono programmi di qualità e quando questi programmi di qualità non li offre la propria città, li vanno a cercare in tutta la Campania, se non altrove. Quando invece Avellino si sveglia dal torpore in cui è precipitata e capisce che c'è da fare un salto culturale in più, che non è solo la sagra della pannocchia quello che gli Avellinesi si aspettano, che non è soltanto la festa di piazza intesa in maniera eccessivamente retroattiva, ma è appunto un concetto di fruibilità culturale anche aperto, anche internazionale, anche divertente, anche leggero. La cultura è leggerezza e, attenzione, io non sono per le cose necessariamente pesanti e impegnative, le cose impegnative possono essere rese fruibili, però quando questi progetti li abbiamo messi in campo ad Avellino la gente viene. Quindi io mi domando perché ancora oggi non si ragioni in questo modo, perché Villa Mendola è chiusa, perché la Casina del Principe funziona a spizzichi e bocconi, perché l'Eliseo un altro po' ci crolla addosso, perché una risposta me la sono data. La pannocchia, infatti, le stavo chiedendo perché. Perché? Perché purtroppo c'è un gap culturale in chi governa, non nel pubblico. Il gap culturale è nella testa di chi amministra, perché se chi amministra ha come primo obiettivo quando si arriva a determinate postazioni gestire le opere pubbliche che fanno girare tanti soldi, tanti interessi, tanti appalti, tanta concretezza e mette completamente da parte, quella che è la progettazione culturale, non si andrà mai avanti. La città di Avellino, che è una città a capoluogo, non ha l'assessore alla cultura. Sede, in questo, mi permetto così soltanto, abbiamo soltanto qualche minuto, quindi non ci sarà nemmeno il tempo per polemizzare, anche perché l'intenzione... Non è una polemica gratuita. Non vogliamo fare qualche cosa di costruttivo con lei, che è persona seria. Allora, io non me la sentirei di dire, orestamente, che se ad Avellino manca una risposta alla fame di cultura, cioè se continuiamo a tenere Avellino e la provincia a pane e acqua, non me la sento di dire che possa essere colpa dell'attuale amministrazione comunale di Avellino, perché mi pare che le precedenti amministrazioni... Certo, concordo pienamente. Allora, fatta questa premessa, la domanda è, ecco, da che cosa bisognerebbe concretamente ripartire e con quale percorso, anche questo concreto, no? Per mettere insieme alcune realtà culturali che noi abbiamo. Il Conservatorio è una grande realtà culturale, il Teatro Gesualdo è una grande realtà, poi abbiamo altre piccole strutture, ma in provincia abbiamo tante belle cose, abbiamo un percorso dei castelli che è molto importante, beni culturali di pregiatissimo livello, abbiamo tante cose, no? Senza parlare poi dell'enogastronomia che è altra cultura, quella è cultura culinaria e va bene anche quella. Ma ci mancherebbe. Cipriano, ma perché è mancato un progetto? Perché manca ancora un progetto? Timidamente, ma concretamente, è completo la domanda, il Presidente della provincia ha messo su un'idea, sistema IRP, per tentare di attrarre turisti, vedremo se funzionerà, ma comunque è un passo, comunque nella staticità di questa provincia addirittura è una rivoluzione. Io ho guardato di buon occhio all'iniziativa di Biancardi, nel senso che metodologicamente mi è sembrato un passaggio corretto, perché la cosa che manca è l'organizzazione, bisogna entrare nell'ottica delle idee che la cultura è un'impresa, è un'economia e va organizzata come tutti gli altri servizi. Allora, per la mobilità esiste l'AIR che organizza, per la sanità esiste l'ospedale che organizza, per i lavori pubblici esiste l'assessorato che organizza, per la cultura invece si improvvisa sempre. Quindi la prima cosa è organizzare. Ad Avellino serve, io parlo della città capoluogo perché può essere un traino, poi è chiaro che questo ragionamento si può estendere al territorio, però serve organizzare la struttura con le persone giuste, con la mentalità giusta che guidi questo processo. Biancardi timidamente ha iniziato a farlo, c'è questa fondazione, l'intuizione è buona, non ha ancora prodotto risultati concreti perché in una fase di start-up c'è la pandemia, vediamo alla prova dei fatti come opererà. Però l'intuizione è buona, quindi sulla città capoluogo bisogna cominciare a ragionare in termini strategici. Chi organizzerà tutti i luoghi culturali della città di Avellino? L'assessore alla cultura? Benissimo, allora nominiamolo. La maxifondazione che il sindaco ha in testa? Benissimo, ma allora vediamo con quali soldi quella maxifondazione dovrà operare, altrimenti non serve a niente. Un altro sistema che possiamo mutuare dalle centinaia di esperienze che ci sono in tutta Italia e in tutta Europa? Benissimo, ma allora chiamiamo chi di queste cose si occupa e facciamoci consigliare. Quindi la prima cosa che manca è le idee chiare, la strategia. Dopodiché la cultura può, a piccoli passi perché non siamo una grande capitale, siamo una piccola città e una piccola provincia, quindi stando con i piedi per terra, però la cultura può anche generare economia e quindi si creano piccoli posti di lavoro, si crea un indotto, la gente comincia a venire ad Avellino a sentire un concerto e quindi magari quella sera si ferma nel nostro albergo, cena nel nostro ristorante, vede passando un'abitazione e pensa, ma quasi quasi mi trasferisco a vivere in questa città, lo facevano i napoletani fino a tanti anni fa che lasciavano Napoli e andavano ad abitare nell'immediato Interland, Torrette di Mercogliano, Mercogliano su Monte, Monteforte. Quindi perché non ricominciare con quest'ottica? Però per farlo ci vuole la convinzione che la cultura può essere un traino e che ha la dignità che merita. Io lo dico con molta amarezza, si combatte contro i mulini al vento, spesso in solitudine, anche il Cimarose. È stata una bella storia, è una bella storia, ma attorno purtroppo c'è il deserto e così, diciamo, sì, ci può essere il Presidente più o meno bravo, ma non si va molto avanti. Cipriano, io ho un minuto di tempo a disposizione e un minuto, così che lo concediamo, di recupero, andiamo oltre, è un tempino supplementare. Perché sarebbe poi anche strano, no? Se non le chiedessi qualcosa su Fucsas. Secondo me è stata una scelta ottima, penso che anche per lei sia una buona scelta, non lo so. Però, dico, al di là delle polemiche, al di là di tutto, no? Fucsas ormai è nominato, c'è, punto, per la dograna. Che cosa si potrebbe fare per tentare, Pasqua è passata, ma per tentare di mettere un poco di pace, no? In questo ambiente politico-amministrativo, lo so che è un'avventura, forse addirittura una sventura. Ma per mettere un po' di pace, perché lei sarà d'accordo, fino a quando ci saranno queste contrapposizioni, perdiamo del tempo, perdiamo delle opportunità. Qual è il suo pensiero? Su Fucsas e sull'opportunità? Le domande sono due. Fucsas, io vado un po' in controtendenza. Per me Fucsas è un'ottima scelta, l'ho detto pubblicamente, faccio i complimenti al sindaco Gianluca Festa per aver individuato un nome così di prestigio per questo progetto. Quindi su questo scartiamo ogni provincialismo, ogni polemica a priori. Per me Fucsas è un'ottima scelta, Fucsas è un'opportunità per la città di Avellino. Bisogna però saperla cogliere, è su questo che critico l'amministrazione, perché non basta la firma per il contenitore dogana, ma bisogna che quel contenitore dogana abbia un contenuto, altrimenti tra quattro anni avremo la bellissima dogana restaurata da Fucsas, vuota e chiusa come tutti gli altri luoghi della città. Questo è il passaggio che manca. Quindi noi abbiamo chiesto al sindaco, porta una volta per due ore Fucsas in consiglio comunale, fai sì che questo grande nome possa ascoltare da tutti noi che rappresentiamo gli avellinesi le istanze del territorio, fai sì che possiamo indirizzarlo su un progetto di restauro che crei poi qualcosa di concreto. Quindi Fucsas, ripeto, grande opportunità, ma rischio da questo punto di vista se non si concretizza il progetto. Mi sono dimenticato una seconda domanda. Non ci sarebbe la necessità di una pace istituzionale, chiamiamola pace, ma di una dialettica un po' diversa. Guardi, lei... Io comprendo le difficoltà con questo sindaco, comprendo perfettamente le difficoltà, perché se le va cercando, no? Però, laddove non ci arriva lui, magari ci può arrivare l'opposizione, non so, tendere la mano, creare un problema di civiltà. Avelino ha bisogno di una maggiore civiltà politica. Lei non immagina quanto noi di opposizione, e io personalmente sia stanco di sprecare il mio tempo per fare polemiche col Presidente Maggio, col Sindaco Festa, col Capogruppo Guerriero, non mi interessa minimamente. Io non ho più tempo e voglia da perdere per fare tutto questo. Però per fare la pace bisogna essere in due. Allora, finché riceviamo continuamente schiaffi di tutti i tipi, perché purtroppo sul rispetto delle regole si va avanti un po' a zigzag, sul rispetto delle procedure si va avanti in maniera creativa, sul rispetto dei diritti delle minoranze si va avanti, anche qui stop and go, e allora diventa difficile costruire un rapporto. Quindi io faccio nuovamente un appello, l'ho fatto anche da queste emittente tante volte, insomma, difficilmente io e Festa faremo qualcosa assieme dal punto di vista politico, però il Sindaco della città Capoluogo è Gianluca Festa e ha il dovere morale e politico di pacificare il Consiglio Comunale, che invece è un'arena dove sono tutti contro tutti, chi urla di più, chi sbraita di più, chi passa da destra a sinistra, da sinistra a destra, maggioranza e opposizione in contemporanea. Anche alcuni miei colleghi, devo dire, non di opposizione, miei colleghi consiglieri comunali, si chiarissero un attimo le idee. Chi vuole stare in maggioranza? Alzi la manina e vada in maggioranza. Chi vuole venire in opposizione? Alzi la manina e venga in opposizione. Ma basta perdere tempo con persone che nella stessa seduta di Consiglio Comunale la prima mezz'ora stanno in maggioranza e la seconda in opposizione. Allora, lo dico veramente col cuore aperto, perché questa esperienza politica non ci deve far arricchire, non ci si arricchisce, non si guadagna. Non sciupiamo questi tre anni che rimangono di amministrazione Festa, diamo una mano, però il Sindaco rispetti le regole, rispetti le minoranze, rispetti le procedure, perché il Comune è una cosa seria, non è una diretta Facebook, non è una sceneggiata da venditore di materassi come quelle purtroppo a cui assistiamo, non è una continua litigio, un continuo pungible. Quindi facciamolo insieme, noi tendiamo la mano, ma abbiamo bisogno che in risposta ci sia una mano tesa e non il solito cazzotto che fino a oggi purtroppo i fatti dimostrano abbiamo avuto. Bene, finisce qui la nostra intervista a Luca Cipiano, grazie per le cose che ci ha raccontato del Cimarosa, speriamo che vada tutto un po' meglio, cerchiamo di augurarci, abbiamo già questo nemico disgraziatissimo che è il virus, mi pare davvero poco opportuno, poco conveniente per tutti, fare guerra anche tra di noi. Grazie ancora a Luca Cipiano, grazie a voi, arrivederci con la prossima puntata di Politica ed Intorno. Grazie a tutti.